Buonasera a tutti dal Tg regionale per sordi. Arrestato dai carabinieri un sedicenne libico con l'accusa di aver partecipato insieme ad altre tre persone alla spedizione punitiva contro un tunisino di 32 anni. Avvenuta in pieno centro storico a Firenze in piazza dei Cionpi lo scorso 12 febbraio alle 19 di fronte ai passanti. Il ragazzo è stato arrestato, tentato omicidio, l'accusa ipotizzata dal procuratore presso il Tribunale per i minorenni. L'accusa è stata contestata in relazione alla ferocia dimostrata durante l'aggressione, l'uso di oggetti contundenti atti ad offendere e l'azione lesiva effettuata con calci e pugni indirizzati a parti vitali del corpo come l'addome e il capo e diretta in modo non equivoco a cagionare la morte del malcapitato non sopraggiunta per cause esterne alla volontà degli aggressori. Inoltre subito dopo i fatti il minore era stato affidato ad un centro di accoglienza dal quale si è allontanato poche ore dopo portando via con sé gli oggetti presenti nella stanza che gli erano stati assegnati. E sarebbe stata una lite per un posteggio. La causa di una rissa scoppiata ieri sera sulla via Volterrana a Cerbaia nel comune di San Casciano Valdipesa in provincia di Firenze. Sette le persone, tutte di origine romena di età tra 47 e 26 anni trovate sul posto e denunciate poi dai carabinieri intervenuti da San Casciano, Tavarnelle e Badia Settimo. Sequestrati dai militari anche alcuni attrezzi per edilizia a difesa velocemente utilizzati durante la rissa durante la quale un 44enne è rimasto ferito alla testa. Portato in ospedale è stato trattenuto in osservazione. Secondo i carabinieri in tutto alla rissa avrebbero preso parte una decina di persone e sono da identificare e si chiede la collaborazione da parte dei cittadini. Salvate due donne a Montecatini Terme in provincia di Pistoia in un intervento dei vigili del fuoco per un incendio in un'abitazione in via dei Colli. Le due donne, madre e figlia, sono rimaste bloccate sul terrazzo a causa del fumo e delle fiamme e una squadra è riuscita a portarla in salvo con una scala. L'incendio ha interessato la cucina. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Non ci sono danni a persone né alla struttura. Violenza sessuale per aver molestato una donna ultra sessantenne. Questa l'accusa che ha portato all'arresto di un uomo di 55 anni di origine albanese. bloccato dai carabinieri in provincia di Firenze. I militari sono intervenuti dopo la denuncia della donna che ha raccontato che mentre era a passeggio con il cane in una zona di campagna sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che senza motivo ha iniziato a farle pesanti avance. e poi con un improvviso raptus l'avrebbe palpeggiata più volte mentre la donna impaurita cercava di allontanarsi. Allertati da una telefonata dei familiari della donna i carabinieri sono subito intervenuti bloccando un sospetto che riconosciuto dalla vittima è stato arrestato. Un'anziana disabile è rimasta ustionata dalle fiamme che si sarebbero sprigionate da una termocoperta forse a causa di un cortocircuito mentre era a letto. È accaduto nell'abitazione della donna che ha 84 anni a Civitella Paganico in provincia di Grosseto. L'anziana è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e poi trasportata in Codice Rosso all'ospedale di Pisa con l'elisoccorso. Due uomini di 25 e 26 anni, entrambi albanesi e immigrati irregolari sono stati sottoposti a fermo perché gravemente indiziati di essere gli autori di ben nove furti in casa avvenuti tra le province di Pistoia, Firenze e Pisa. Denunciato anche un terzo albanese accusato di riciclaggio. I due fermati, entrambi dimoranti a Ponsacco, sono stati rintracciati ieri pomeriggio a Bugiano e a Chiesina Uzzanese. I furti sono avvenuti sempre alla stessa ora tra le 17 e le 20. Per entrare nelle case forzavano le porte finestre con arnesi da scasso. Con le perquisizioni effettuate nella casa dei due fermati e delle denunciati è stata recuperata la refurtiva riconosciuta dalle vittime dei furti. Un tatuatore di 44 anni della provincia di Pisa ha aggredito la scorsa notte due collaboratori e li ha rinchiusi nel bagno della stanza da loro occupata in una struttura ricettiva di Camerano in provincia di Ancona minacciandoli di morte con pistola e coltelli. Sono stati liberati dai carabinieri e allertati da una telefonata che uno dei due era riuscito a fare ad un parente. Sono riusciti a far uscire l'aggressore dalla stanza e poi lo hanno immobilizzato. I tre si trovavano a Camerano per partecipare alla prima tattoo convention al Palaprometeo di Ancona. L'uomo avrebbe agito per futili motivi in un momento di squilibrio mentale. Non c'è ancora accordo nel centrodestra toscano per i candidati a sindaco da presentare a Firenze, Prato e Livorno e i coordinatori regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, riunitisi ieri, faranno un passaggio con i propri leader nazionali prima di tornare al tavolo di confronto che è stato aggiornato al prossimo fine settimana. Raggiunta invece un'intesa sui candidati a sindaco da presentare nella maggioranza dei comuni toscani con popolazione superiore a 15.000 abitanti che andranno a voto. I tre coordinatori, Susanna Ceccardi della Lega, Stefano Mugnai di Forza Italia e Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, si sono detti vicini comunque alla meta e consapevoli che la priorità di tutti è mandare a casa il PD. Siamo arrivati alle previsioni del tempo per domani in Toscana, ancora una giornata di sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia durante la notte e al primo mattino, soprattutto sul Val d'Arno inferiore e modesti addensamenti nel pomeriggio e in serata sulle zone centrali lungo la costa livornese. I venti sono deboli da ovest, i mari poco mossi e per quanto riguarda le temperature stazionarie o in lieve calo in pianura nei valori massimi. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.